e prova questa tecnica di telepatia e fai in modo che una persona specifica ti chiami o ti mandi un messaggio prima di affrontare il tema iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi su Instagram Massimo Terramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, ovviamente metti un like al video se ti è piaciuto e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonare se è facile basta andare nella home page tastina abbonati, c'è una tastina iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci ti ricordo inoltre che se vuoi puoi fare una donazione al canale e veniamo al tema prova questa tecnica di telepatia e fai in modo che una persona specifica ti chiami o ti mandi un messaggio allora quello che ti chiedo è di metterti in una posizione comoda con le braccia rilassate le spalle rilassate la schiena è retta ma non tesa e chiudi dolcemente gli occhi e mentre sei con gli occhi chiusi e ascolti il suono della mia voce puoi portare tranquillamente l'attenzione sul tuo respiro sull'aria che entra e che esce dai tuoi polmoni e via via che respiri non so se ti rendi conto che il tuo respiro è calmo e regolare come calmo e regolare è il respiro del mare come calmo e regolare è il respiro dell'universo e via via che continui a respirare iniziamo a creare una connessione inizia a creare una connessione tra te e la persona questa persona specifica che vuoi che ti chiami o ti mandi un messaggio ti chiedo per fare questo di visualizzare davanti a te questa persona come se fosse un corpo di luce puoi visualizzare anche i dettagli di questa persona come se fosse un corpo di luce mentre continui a respirare e ascoltare il suono della mia voce visualizza i dettagli mentre continui a respirare e ascoltare il suono della mia voce visualizza i dettagli e adesso porta la tua attenzione al centro delle tue sopracciglia alla radice del tuo naso il tuo terzo occhio il chakra del terzo occhio immagina che da questo punto dalla radice del tuo naso parta un raggio di luce di energia che ti collega con il terzo occhio dell'altra persona immagina questa connessione questo raggio di luce di energia che ti collega direttamente a questa persona che ti collega E questa connessione profonda ti permette di esprimere un pensiero. Il pensiero o il comando telepatico chiamami o scrivimi. E mentre mandi questo messaggio la persona specifica che desideri lo riceve e puoi visualizzare che si attiva per eseguire il messaggio che gli hai mandato e tutto questo accade perché hai messo energia ed emozione nel messaggio che hai inviato. Entro 48 ore questa persona eseguirà questo messaggio ti chiamerà o ti iscriverà e tu sei certa, sei certo di questo manifesti in questo momento fede e fiducia e adesso che tutto questo è accaduto ti chiedo di portare nuovamente l'attenzione sul tuo respiro sul tuo respiro sull'aria che entra e che esce dai tuoi polmoni fare tre respiri profondi con la certezza che riceverai questo messaggio questa chiamata da questa persona al termine di questi tre respiri profondi iniziare a muovere le braccia le mani e le gambe e per finire apri dolcemente gli occhi consapevole che questo messaggio questa chiamata arriverà entro 48 ore bene e adesso metti un like al video se ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici iscriviti al canale attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video seguimi su Instagram Massimo Tremasco Ufficiale su TikTok e ti dico